Musica Parte una nuova settimana di calcio di sport di Antenna Sud. Buon pomeriggio e ben ritrovati a lunedì Puglia. Andiamo ad approfondire insieme ai nostri ospiti quello che è accaduto nella domenica calcistica in Puglia, soprattutto in Serie D e in eccellenza, con argomenti importanti da approfondire, come per esempio i pareggi nei big match di Altamura e Casarano, ritorna la vittoria della Brindisi, i sorrisi esterni per Molfetta e Bitonto e continua il digiuno di vittorie per il Gravina. E' ancora Nardò, ancora imbattuto e con la migliore difesa, pensate, appena 5 gol subiti. Il Brindisi vince, come dicevamo prima, davanti a pochi intimi con uno sfogo sui social della presidente Arigliano. E poi in eccellenza sabato scorso il Manfredonia vince, adesso ha il primato ma senza stadio. Come sempre ci sarà la top 11 e i gol più belli, ma vado subito a salutare i miei ospiti per questo lunedì Puglia. Ben ritrovato al direttore Gigi De Laurentiis, Nick Calciobari, ne parleremo anche quest'oggi. Buon pomeriggio direttore. Ciao Cristina, buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovato e ben ritornato alla collega Nicola Lavacca. Ciao Nicola. Ciao, buon pomeriggio. Un benvenuto al Fabio Petruzzella, club manager del Molfetta. Ciao Fabio, buon pomeriggio. Abbiamo anche diversi collegamenti con gli ospiti che vengono con i nostri collegamenti Skype, come per esempio Antonino Viola, che è il portiere del Nardò, Nicola Dipinto, difensore dell'altima Altamura e Pierluigi Valentini, direttore generale della Brindisi. Tutto questo nell'arco di un'ora cercheremo di andare a essere veloci, ma vogliamo anche spaziare da una parte all'altra per non tralasciare nulla e cominciamo proprio con i risultati, quindi il quadro completo di questa giornata, le campionate di Serie D, Girone H, che ha visto anche dei risultati a sorpresa. Ne parlavamo a telecamere spente, ma vediamo un attimo insieme quanto è accaduto. Dunque, finito a reti inviolate il derby Salentino-Casarano-Nardò. Il Cavese ha battuto il Francavilla in Sinni per 4-3. Il Gladiator ha battuto il Gavina 3-1. Il Bitonto è stato a Corsaro a Lavello per 3-0. È finita appunto questo match, ha vinto questo match. E ancora il Nocerini ha battuto il Fasano 3-2. Altamura-Barletta non si sono fatti male in questo derby, 0-0. Il Brindisi torna la vittoria, come dicevamo, 1-0 con il fanalino di coda putiolana. Il Martina e il Molfetta si sono fermati sul 2-2. Ce lo faremo raccontare e vedremo anche le immagini. E poi c'è la Fragolese in fase calante con un Matera invece che colleziona il sesto risultato utile consecutivo. Comincio proprio con il direttore Dallarenzi. Se poi andiamo a vedere le immagini, così andiamo a commentare proprio quanto è accaduto. Che idea ti sei fatto, direttore, di questa giornata un po' particolare? Qualche sorpresa? Qualcosa di scontato? Sì, Cristina, qualcosa di scontato sì, però regna sempre il totale equilibrio. Vediamo sempre che nel giro di 5 punti ci sono 7 squadre, quindi continua praticamente quel percorso che abbiamo già detto a inizio campionato, cioè che è un totale equilibrio, tranne qualche squadra che un po' si è un po' staccata. E mi riferisco soprattutto al Gravina. Sì, anche la Putiolana, però la Putiolana dà comunque segnali di ripresa, anche se ha perso ieri Brindisi. Per il resto erano cose un po' prevedibili. Quindi forse l'unico risultato che non mi aspettavo così rotondo è quello del Bitonto a Lavello, anche se sinceramente il Bitonto sono già una serie di partite che sta facendo bene, forse ha raccolto anche meno rispetto a quello che meritava, in attesa sempre del recupero di mercoledì con il Francavilla. Assolutamente sì. E allora, prima di andare a vedere le immagini, abbiamo già il nostro primo ospite, non vogliamo farlo aspettare. Intanto ringraziamo l'ufficio stampa del Nardò per averci concesso il tesserato, il portiere, le under, Antonino Viola. Ciao Antonino, ben ritrovato e benvenuto ad Antenna Sud. Buonasera a tutti, grazie all'invito. Allora, da dove vogliamo partire intanto? Partiamo dal risultato di questo derby. Come dicevo prima, questo derby salentino non vi siete fatti male, è finito a 0-0, ma che gara è stata in realtà, Antonino? Guarda, è stata una bella partita, perché dalla nostra parte abbiamo avuto molte occasioni di golle, tre, quattro palle e golle importanti, secondo me, che potevamo sfruttare. Mentre il Casarano non ha fatto tiri in porta, non mi sono arrivati i tiri in porta ieri, però comunque con tanto possesso palla, tanti cross, è stata una bella partita. Diciamo che poteva finire anche 1-0. Ecco, al di là di quella che è la scaramanzia, ne parlavamo proprio sabato scorso nell'anteprima stadio, resta il fatto, è il dato di fatto, e nel calcio è quello che conta i numeri ovviamente, che il Nardò ha la difesa imbattuta, e nel reparto arretrato fai ovviamente parte anche tu. Come avete trovato questa quadra? Cioè, grande intesa ovviamente tra tutti i reparti, ma ovviamente raccontami qualche aneddoto da questo punto di vista. Guarda, la fase difensiva parte dagli attaccanti, devo dire che gli attaccanti, i centrocampisti, soprattutto i difensori, tutti stanno dando una grande mano per arrivare a quello che siamo adesso, la migliore difesa. Quindi, come ho detto prima, parte degli attaccanti che corrono molto durante la partita, in fase di un possesso, quindi fanno faticare male i difensori e anche i centrocampisti. E ovviamente fanno arrivare meno che sono da golle contro di me, diciamo. Che era si respira nella piazza di Nardò, proprio partendo da questo dato positivo, insomma, sin dall'inizio del campionato gli addetti ai lavori hanno indicato il Nardò, come una delle squadre che doveva essere sempre lì, nella parte alta della classifica, e lì ovviamente il consormento è. Che era si respira appunto intorno a voi, al Giovanni Paolo II? Guarda, noi siamo positivi, guardiamo sempre partita per partita, sappiamo le nostre qualità, ma ovviamente l'obiettivo rimane sempre la qualità tranquilla, poi si vedrà. Io approfitto della presenza di un giovane, perché so che il direttore De Lorenzis è particolarmente legato e attento ai ragazzi. Un under importa al Nardò, giustamente, come giustamente ha detto, parte dall'attacco, la fase difensiva, ma il reparto retrato è di tutto, cioè un grande reparto retrato con giocatori importanti, quelli della Nardò. Che cosa possiamo dire a questo ragazzo? Intanto, voglio fare complimenti appunto a Viola, non so se ha visto altre trasmissioni, le abbiamo inserito più volte nella top 11, forse è stato fin troppo modesto, perché sinceramente un 2003 che dà tanta sicurezza al reparto difensivo, vuol dire che comunque è un portiere di sicuro affidamento. Tu sei in prestito da Lecce, giusto? Giusto, giusto. Grazie per i complimenti. Perfetto, si è in prestito da Lecce, hai contribuito sicuramente ad avere, a far sì che la squadra sia meno battuta, caratteristica anche importante, che fuori casa mi pare che non avete mai subito gol, giusto? Sì. Esatto. Sì, sì. Esatto, quindi ciò vuol dire tanto e sicuramente anche se ha dei centrali difensivi esperti, quali per esempio Lanzolla, vuol dire però che anche il reparto difensivo sente la fiducia di un portiere all'altezza come lui. La cosa che volevo chiedergli è se, a parte il discorso del Nardò, se per l'anno prossimo hai in mente, oppure quantomeno ti sei fatto un'idea di poter sempre più poter progredire e chissà il Lecce possa anche ricorrere a te. Il mio obiettivo per l'anno prossimo è far parte dei professionisti, giocare anche un campionato di Stato di Cilio sarebbe l'obiettivo principale. Poi ovviamente il Lecce farà le sue valutazioni, io sarei contento, molto contento di stare a far parte del gruppo del Lecce, anche della prima squadra. Vai, vai Nicola. Sì, sono una domanda flash, oltre al preparatore dei portieri, quanto conta per un ragazzo di prospettiva come te avere un tecnico come Nicola Ragno, esperto della categoria? Guarda, il mister già dai primi giorni di ritiro mi ha sempre dato una mano, ho avuto, c'è un grande rapporto con lui, mi sta dando tanti consigli su come non prendere gol, come far meglio, anche il mio ruolo. Mi ha dato molti consigli e anche aneddoti in campo, sulle punizioni, anche sui falli laterali, su come uscire meglio. Mi sta aiutando tanto il mister. Beh, questo ovviamente è la sinergia che serve, perché ovviamente presi singolarmente i giocatori che compongono una squadra non sono nulla se non c'è un capitano che li guida, non capitano con la fascia in campo, ma proprio il tecnico. Grazie ad Antonino Viola per essere stato con noi e complimenti ancora Antonino. Grazie, buona serata a tutti. Buona serata. Allora, prima di continuare a parlare. Andiamo a vederci un po' le immagini di ieri. Abbiamo queste gare che andremo a rivedere. Il pareggio tra Altamura e Barletta e la vittoria del Brindisi sulla Putiolana. Il pareggio tra Martina e Molfetta di cui parleremo anche con Fabio e non solo di questo, ovviamente. Il pareggio tra Casarano e Nardò. Vediamo il treno dei nostri servizi e poi torniamo in studio. Un punto prezioso per il Barletta sul campo dell'Altamura. Aldangelo finisce 0-0 un match intenso ed estenuante sul piano agonistico. Murgiani che non sfondano il muro bianco-rosso tra le muramiche. La sorpresa dalla domenica è Nicolalo Iodice in panchina per un fastidio muscolare. Farina opta comunque per il 4-2-3-1 con l'attanzio terminale offensivo e l'avopa dall'inizio. Vicedomini squalificato al suo posto Feola. Altamura con Croce e Sosa davanti. Ginestra si affida all'ex ganci in mezzo al campo. Tre minuti e Murgiani già pericolosi con Sosa che salta petta ma trova l'opposizione di Piersanti a tu per tu col 10 di casa. La risposta ospite arriva all'ottavo sull'asse la Vopa Maccioni palla per l'attanzio che col sinistro sfiora il palo dal limite dell'area. Ancora Altamura avanti al decimo Ganci raccoglie all'altezza del rigore ma il suo tiro viene deviato in corner sugli sviluppi dell'angolo ci prova Casiello da fuori senza inquadrare lo specchio al sedicesimo. Ancora Casiello parte sulla sinistra punta petta e lascia partire un tiro secco dalla distanza di poco alto al diciottesimo però il Barletta fa paura in contropiede Russo in mezzo per l'attanzio in corsa colpo di testa e deviazione decisiva di Spina che si salva con l'aiuto del palo un minuto dopo Russo da fuori ancora Spina in respinta al ventitresimo sempre Russo per l'avopa dalle retrovie tentativo sbilenco a centro aria al quarantesimo risposta Altamurana con un destro al volo di Casiello che non inquadra la porta finisce sullo 0-0 un primo tempo all'altissima intensità ripresa al via senza cambi all'undicesimo Piersanti respinge sul Casiello la palla arriva a croce che spara alle stelle da pochissimi passi tre minuti dopo corner di Ganci tocco sul primo palo di Lacassia e palla di poco fuori al ventiduesimo gran botta da fuori di Dipinto Piersanti vola toglierà dall'incrocio dei pali partita bloccata Altamura che mantiene il palino del gioco al trentacinquesimo angolo sulla testa di Bertolo che manda alto il Barletta cerca di allentare la pressione murgiana anche nei quattro di recupero nei quali non accade più nulla finisce 0-0 la squadra di Farina abbandona la testa della classifica a favore della Cavese ma conquista un punto preziosissimo Aldangelo Altamura con Rammarico per gli sforzi della ripresa secondo pari di fila per la squadra di Ginestra il Brindisi torna alla vittoria basta una rete di palumbo nel finale di primo tempo a concedere i tre punti alla formazione brindisina contro il panalino di coda Putiolana la prima parte di gara è giocata a ritmi bassi non concedono spazi le due difese a fatta eccezione di alcuni cross che non trovano nessuna deviazione sotto misura al ventiquattresimo la prima opportunità per il Brindisi colpo di testa di Staucius la parla termina sul fondo poco dopo la mezz'ora occasione per Sirri sempre una deviazione aerea Lamberti è attento e blocca la sfera il cross al trentaduesimo di Della Corte è l'unico pericolo della Putiolana nel primo tempo con la deviazione di Wismara al trentaquattresimo prima occasionissima per il Brindisi tre tentativi prima ci prova Cancelli poi Staucius alla fine Malaccari tutti e tre i tiri vengono respinti con il corpo dai difensori campani due minuti più tardi su calcio d'angolo e Malaccari a deviare prima respinta il secondo intervento è prodigioso l'intervento di Lamberti che manda la sfera ancora in corner al trentanovesimo si sblocca il risultato inserimento di Palumbo che con un tocco sotto anticipa l'uscita del portiere avversario e deposita la sfera in rete la ripresa parte subito con il Brindisi che potrebbe chiudere i conti all'undicesimo ripartenza di Dammacco dalla sinistra si accenta il numero 10 bianco azzurro il tiro a girare viene respinto dal palo la putiolana fatica a reagire il Brindisi controlla gli spazi e non concede occasioni per segnalare un'opportunità campana bisogna attendere il quarantatresimo con un insidioso colpo di testa di Iada Resta che termina sul fondo in pieno recupero poi ci prova con la forza della disperazione dal limite Abenborg la sfera termina debolmente sul fondo il Brindisi non sfrutta alcune ripartenze il risultato non cambia e alla fine contano i tre punti che il Brindisi conquista Tra Casarano e Nordò finisce 0 a 0 e oltre alle reti mancano anche le emozioni in virtù anche della grande organizzazione difensiva della squadra di Mr. Ragno che si presenta al capozza con l'ex D'Ambros davanti invece nei rosso-azzurri c'è la conferma di Dellino al centro dell'attacco dal primo minuto ma per vivere l'emozione della partita bisogna aspettare il 27esimo quando De Giorgi ci prova Carotenuto risponde bene D'Ambros tenta il tap-in ma l'estremo difensore rosso-azzurro è ancora una volta decisivo e blocca il pallone per vivere la prima mozione di marca rosso-azzurro invece bisogna attendere il 31esimo con il tentativo di Nicola Strambelli al 41esimo occasionissima per il Leonardo D'Ambros viene lanciato tu per tu con Canotenuto ma è provvidenziale l'intervento di Rizzo che in scivolata si oppone alla conclusione del brasiliano finisce così la prima frazione di gioco nella ripresa subito sono gli ospiti a farsi vedere in avanti con una sforbiciata di De Giorgi su assist di Antonaci pallone abbondantemente alto al 62esimo tiro telefonato di Ortisi blocca Viola senza alcun tipo di problemi poi all'84esimo i padroni di casa restano in 10 per espulsione per somma di ammolizioni in Guastamacchia entra Pambianchi al posto di Gatto il Casarano si copre ma il Nardò non punge finisce 0-0 per emozioni e gol rivolgersi al Trover Il Martini racciuffa il Molfetta al novantesimo allo Stato Tursi finisce 2-2 il derby tra gli uomini di Pizzulli e quelli di Bartoli con gli triani che ottengono l'ottavo risultato utile consecutivo dopo una prima fase di studio Bianco Rossi sblocca nel risultato al tredicesimo Cappellari strattone in area di rigore Tedesco che finisce a terra dopo un contrasto l'arbitro decreta il calcio di rigore dal dischetto Montinaro trasforma con una conclusione alla sua terra non neutralizzata da Semeraro 8 minuti dopo il Martina può pareggiare sempre dagli 11 metri Pinto commette fallo su Ancora stavolta il rigore per i Biancazzurri l'epilogo però è diverso con Diaz che si fa neutralizzare da Diame e respinge in corner ancora Montinaro protagonista per il Molfetta con una punizione dai 25 metri al ventisesimo minuto ma la sfera finisce alta sopra la traversa al trentottesimo il Martina ci prova con Ancora sugli sviluppi di una punizione Diame si rifugia in corner al 45esimo i Biancazzurri trovano il pareggio con una rete da manuale Mangialardi apre sulla sinistra per Nicolli cross tieso per Pinto che in spaccata trova l'1-1 al primo guizio della ripresa il Molfetta si riporta in vantaggio all'ottavo triangolazione sulla destra tra Longo e Stasi palla messa in area allontanata dalla retroguardia Biancazzurra ma Romio è più lesso di tutti e sulla respinta calcia riporta avanti i Biancorossi il Martina costruisce gli sforzi vengono premiati allo scadere con Sux bravo a spedire in rete di testa una conclusione di Petitti finisce 2-2 con le squadre che si dividono la posta in palio C'è chi il digiuno di vittorie lo interrompe dopo un mese e chi invece il sapore del primo successo in questa stagione deve ancora assaporarlo stati d'animo diversi per Bitonto e Gravina la cui domenica si chiude nel segno del 3 anche se con prospettive diverse perché il 3 della squadra di Valeriano Loseto non è solo quello dei punti conquistati in trasferta contro il Lavello ma anche quello dei gol realizzati risultato che si sblocca al sesto per i Neroverdi grazie a Figlio Lia e viene messo quasi al sicuro dopo 19 minuti del primo tempo con il raddoppio di Maffei lanciato da Clemente il Tris arriva alla mezz'ora della ripresa con D'Angelo che firma il più classico degli autogol su cross di Palazzo nel segno del 3 ma in senso negativo è anche la domenica del Gravina alla fine fischiato dal pubblico del vicino il pareggio di 7 giorni fa contro la Cavese aveva offerto segnali di rinascita che al contrario si spengono immediatamente contro il Gladiator Corigliano ci mette un minuto per sbloccare la contesa Mancini altri 17 per incanalarla ancora di più dalla parte dei Campani per il Gravina e Nottefonda quando Tedesco al 28esimo della ripresa sigla la terza retta del Gladiator e non basta il gol di Chacon per addolcire un altro pomeriggio amaro per i Murgiani Sin qui le immagini Nicola Di Pinto centrocampista della team Altabuna buon pomeriggio e ben ritrovato Ciao buon pomeriggio a tutti Allora siamo in tanti adesso possiamo parlare anche delle immagini che abbiamo visto anche se ovviamente non so se il nostro Nicola le ha già viste ma parleremo un po' delle immagini io voglio partire proprio da questo Altamura Barletta ne avevamo già detto lunedì scorso che non sarebbe stata una gara semplice perché il derby perché eccetera un punto che muove la classifica di entrambe ma che probabilmente sul fronte della classifica al Barletta sta un po' stretto perché in realtà ha perso il primato giusto? Sì ha perso il primato però comunque sapeva anche il Barletta stesso che andava dal Tamura non era assolutamente una passeggiata il Tamura comunque era anche in salute io penso che la partita sia stata una partita a scacchi fondamentalmente ci sono state occasioni comunque sia da una parte che dall'altra io penso che il pareggio tutto sommato sia stato giusto anche se il Barletta aveva qualche defezione tra queste appunto lo iodice era in panchina per un problemino muscolare quindi sicuramente non aveva un potenziale offensivo per poter far sì che potesse riuscire davvero a mettere in difficoltà oltre il dovuto all'Altamura penso che alla fine il pareggio sia giusto forse Nicola ci potrà dire qualcosa in più assolutamente sì allora Nicola pareggio giusto quello che è maturato ieri tra Altamura e Barletta secondo te sì sì per me è il risultato giusto anche se secondo tempo abbiamo creato tanto abbiamo avuto parecchie occasioni per passare in vantaggio però non siamo riusciti e guardiamo il bicchiere mezzo pieno perché queste partite se non si possono vincere non le devi nemmeno perdere siamo lì e ce la giocheremo fino alla fine ecco sempre nel discorso abbiamo parlato direttore anche dell'Altamura che ha lasciato forse qualche punticino per strada e probabilmente avrebbe meritato una classifica diversa alla luce di tutto questo diceva il nostro Nicola Dipinto che l'Altamura dopo questo derby vede il bicchiere mezzo pieno tu sei d'accordo? sì sì lo deve vedere assolutamente mezzo pieno l'Altamura comunque è un organico importante una piazza che si è anche riaccesa quindi sicuramente oltretutto il campionato è ancora lungo io penso che possa dire la sua per stare lì su ma se a dicembre anche qualcosa verrà fatta sul mercato come penso che sicuramente sarà fatto e penso che possa dare fastidio a quelle che sono le pretendenti storiche di questo campionato che possono essere Cavese Brindisi Casarano come anche il Barletta va menzionato quindi io dico che c'è tutte le carte in regola per giocarsene sino alla fine Nicola Davacca una domanda per la giovane loro hanno affrontato la Cavese credo quella famosa prima giornata con l'episodio discusso del rigore dato e non dato eccetera hanno giocato con il Barletta poi non mi ricordo se hanno affrontato Casarano o Brindisi in ogni caso hai notato differenze sostanziali tra queste squadre che diciamo hanno un po' più la possibilità di salire come ambizioni differenze di tanta diciamo superiorità no perché alla fine abbiamo giocato con tutte quelle che sono lì su tranne il Nardò siamo andati a Cava e abbiamo fatto una grande partita col Brindisi ce la siamo giocata l'unica giornata no è stata con Casarano che abbiamo perso 3-0 in casa io sono convinto che ce la possiamo giocare con tutte fino alla fine perché ripeto l'organico della nostra squadra è forte e ci sono valori umani che sia valori calcistici grazie vai vai no volevo dire tu hai comunque un anche se sei cioè anche se sei giovane sei in 2002 vedevo che tu c'è comunque un passato importante tu sei stato a Messina è stato a Carpi ad Andria se non mi sbaglio in C anche quindi hai vissuto piazze anche importanti secondo te l'Altamura può essere pronta per vivere un campionato da protagonista? per me sì perché vedendo ripeto l'organico poi lo staff che io ho già avuto ad Andria per me sì però noi ci dobbiamo divertire come dice il mister e affrontare partita per partita perché come ben sappiamo anche con l'ultima della classe di questo girone non è mai facile quindi giochiamo partita per partita con i nostri principi andiamo su ogni campo a dire la nostra grazie grazie a Nicola Dipinto centrocampista della team Altamura per essere stato con noi io devo dare linea alla regia torneremo tra poco in studio e dobbiamo puntare l'attenzione su quanto è accaduto al tour tra Martina e Molfetta a tra poco come promesso andiamo a porre l'attenzione su quanto è accaduto ieri tra Martina e Molfetta è finita due o due quattro reti quindi la gara è stata interessante intanto siete soddisfatti di questo pareggio avete qualcosa da recriminare è stata è stata una partita molto divertente le quattro reti ne determinano anche il risultato dal punto di vista dello spettacolo diciamo alla fine a prendere un gol al novantesimo non fa mai piacere soprattutto se sei in vantaggio per due volte e vieni rimontato su un campo anche molto difficile come quello di Martina Franca con una squadra in salute e si recriminiamo per quell'ultima azione sul calcio d'angolo però bisogna subito pensare alla prossima partita in casa e il campionato è ancora lungo quindi va bene così la prossima partita in casa che il Molfetta affronterà domenica prossima con il Brindisi al di là di quella che può essere la prossima partita adesso ne parleremo anche con il prossimo ospite il Molfetta l'abbiamo detto spesso nelle nostre trasmissioni ad inizio stagione era indicata tra le squadre che vista la rosa anche avrebbe forse dovuto e potuto fare di più sei d'accordo? beh sì è inutile negarlo ci sono giocatori importanti giocatori che hanno vinto anche i campionati di serie di in passato giovani promettenti e quindi ai nastri di partenza ci sono e c'erano ambizioni diverse ovviamente poi come vediamo il campionato di serie di giro NH è un campionato difficilissimo non si fanno mai sconti non si va e si gioca per 90 minuti anche con l'ultima in classifica puoi anche perdere dei punti noi però siamo siamo consapevoli delle nostre potenzialità della nostra squadra sia dal punto di vista del calciatore sia dal punto di vista dello staff e il campionato ripeto è lungo ci vuole un pizzico più di consapevolezza anche un pizzico più di fortuna per alcuni episodi secondo me in alcune partite dove abbiamo pagato un po' troppo però si ce la giocheremo come penso tutte le squadre del nostro girone De Lorenzi se la vacca veramente 30 secondi a testa per esprimere il nostro concetto sul Molfetta cosa è mancato al Molfetta fino a questo momento per essere un po' più su in classifica si lo abbiamo anche detto più volte è chiaro che come diceva giustamente anche il club manager è normale che le aspettative erano altre quindi sicuramente ciò che si sta facendo in questo momento non è non è soddisfacente penso che non sia soddisfacente neanche per la società per tutto quello che hanno fatto tutto quello che hanno investito penso che ancora faranno qualcosa sicuramente anche a dicembre quindi è chiaro che è un momento diciamo che sono due o tre giornate che le cose vanno sicuramente meglio però non possiamo definirlo un periodo positivo quindi secondo me sono riusciti forse a gestire bene questo momento delicato però adesso occorre immediatamente l'inversione di tendenza per poter puntare a quegli obiettivi che ritengono ancora raggiungibili Nicola ma credo diciamo un po' di discontinuità in più perché è stata un po' una fase altalenante per questa squadra che sicuramente poteva avere qualche punto in più in classifica invece in questa zona tipo limbo tra la zona play out e quella un po' più sopra però le potenzialità ci sono credo anch'io che la società farà qualcosa ci sono calciatori di provata esperienza posso pensare a Manzo a Montinaro stesso che sono anche calciatori di qualità per cui ritengo che possa fare quel salto in più per dare una sterzata al proprio campionato almeno avvicinarsi più verso le zone alte almeno zona play off e non restare diciamo invischiate in questa zona intermedia della classifica però c'è da lavorare tanto e sicuramente forse sul mercato qualcosa bisognerebbe fare per dare la possibilità alla squadra di esprimersi ancora meglio e regalare qualche soddisfazione in più al pubblico molfettese che è sempre caloroso e passionale ecco il mercato dei direttanti apre il primo dicembre quindi tra qualche giorno ne vedremo un po' ne vedremo delle belle sicuramente ma insegnate che gli under non ci toccano perché quello ormai devono essere il pilastro della squadra a stagione avviata i calciatori giusti sicuramente si si prova a non toccare o sbaglio no no non sbagli però è chiaro che all'interno di ogni società ognuno sa se è il caso di riuscire a prendere qualcosa o meno però è normale anche che gli under se ci sono se in qualche società ci sono e sono validi difficilmente se ne privano quindi è un mercato quello degli under che va fatto soprattutto in estate perché qui adesso poi a dicembre diventa tutto più complicato secondo te in questa stagione fino a questo momento quali sono stati gli under non voglio i nomi la squadra più o meno che ha fatto le scelte migliori sul fronte under sicuramente quelle che stanno lì su non possiamo dire che abbiano fatto male quindi nel momento in cui il Nardò prende anche determinati lo stessa cosa il portiere stavamo parlando prima con Viola comunque il portiere che ti dà una certa affidabilità come 2003 è tanta roba ma la stessa cosa anche devo dire per l'altamura con Spina quindi diciamo che lì su hanno operato tutte nel miglior modo possibile tieni conto che il Bitonto per necessità Virtù ha dovuto puntare molto sul giorno rispetto agli altri anni come abbiamo detto e sappiamo tutti un po' la situazione particolare di questa società un po' così un po' a volte da decifrare meglio ma in ogni caso ci sono parecchi giovani quest'anno rispetto magari agli altri anni e forse adesso magari stanno venendo anche fuori alla distanza beh ieri hanno fatto questo sgambetto a Lavello ne parlavamo all'inizio della trasmissione che probabilmente in pochi si attendevano un 3-0 risultato con la cavese in casa eh certo Lavello strano dal punto di vista dei visitati perde facilmente in maniera rotonda risultato da rimarcare è quello del Bitonto però probabilmente l'avranno preso sotto gamba perché insomma il Lavello ha qualche calciatore di qualità non so se ieri non mi ricordo se Guaita ha giocato per esempio però tutto questo senza nulla togliere alla squadra di Valeriano Loseto che secondo me è partita proprio con il piglio giusto e già nei primi minuti ha sbloccato la gara e dato la diciamo la prova di questo carattere che ha messo fuori ieri anche per ribaltare un po' la situazione di classifica in attesa di questo recupero dal nono minuto della ripresa della gara di mercoledì prossimo che è anche uno scontro diretto 35 minuti non sono tanti però vedremo cosa verrà fuori da questa sfida per la zona di retrocessione diciamo zona play out in questo momento il discorso su under e over a proposito perché ne stavamo parlando il Molfetta è una di quelle squadre solitamente c'è la scelta under in Serie D nelle pugliesi il Molfetta ha sia l'over che l'under giusto? si alternano in porta sì abbiamo un portiere affidabile come Crispino vinto campionati importanti anche in Serie C e poi c'è questo ragazzo che ci sta impressionando tantissimo Diame suo primo tesseramento in Italia tre rigori parati tre rigori parati senegalese tre rigori parati consecutivi quindi tanto di cappello per questo ragazzo che è veramente una persona per bene pura che fa del calcio la sua vita vediamo i portieri anche ai mondiali delle squadre africane quindi c'è una tradizione che sta venendo fuori Sì anche i complimenti io li faccio anche al nostro preparatore all'uomo forse anche ma anche al nostro preparatore dei portieri che è Leo Roca che comunque è una persona che si è cimentato nel insegnare anche dal punto di vista mentale a un portiere come come stare all'interno di un rettangolo di gioco come può essere quello di Barletta di Cava anche ieri a Martina Franca cioè il ragazzo comunque ha giocato tutto il secondo tempo con i tifosi che non esprimono buone parole per lui e non dimentichiamoci che Antonino Viola l'anno scorso era Molfetta ed ha vinto come miglior portiere del Girone H quindi io faccio i complimenti anche al nostro preparatore che ci ha visto bene l'anno scorso e sono sicuro che ci ha visto bene anche quest'anno parleremo tra poco anche del Gravina Gravina che ieri è andata giù duro il gladiatore con il Gravina parleremo anche di Gravina tra poco però approfitto appunto proprio anche della presenza di Fabio Petruzella che è il club manager della Molfetta per andare a introdurre il nostro prossimo ospite che è il direttore generale del Brindisi Pierluigi Valentini buon pomeriggio direttore buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio a voi scusate io sono in macchina va benissimo però visto che ti sei fermato quindi ovviamente nel rispetto di ogni norma allora direttore è stata una domenica particolare quella di ieri sul fronte dei risultati qualcuno in atteso come per esempio parlavamo proprio poco fa la vittoria della Bitonto sul Lavello eccetera eccetera ma tra queste notizie è diventata anche una notizia il ritorno alla vittoria del Brindisi in casa con la Puteolana una gara particolare perché effettivamente la Puteolana abbiamo detto in settimana non era certo nonostante è là e si trova in classifica in panellino di coda non è una squadra insomma che meriterebbe quella classifica e allora che gara è stata la soddisfazione per il ritorno alla vittoria c'è sicuramente e allora che gara è stata avresti voluto vedere di più in campo e sugli spalti riprendendo anche un posto del presidente Arigliano senza polemica perché noi siamo pericolosi quando facciamo queste domande scherzo ovviamente posso permettermelo per la amicizia che mi lega a Pierluigi Valentini vai direttore ma guarda Cristina è stata la partita complicata che ci aspettavamo la Puteolana da quando in mano a Sasa Campilongo è una squadra che veniva da quattro pareggi consecutivi aveva messo in grande difficoltà il Casarana al Capozza ha fatto una grande gara con la Fragolese quindi ci aspettavamo una gara difficile e complicata e così è stata io devo dire sono molto molto contento della prova dei ragazzi a Fasano abbiamo fatto una gara di grandissima qualità ieri dovevamo mettere in campo ingredienti diversi e ragazzi devo dire che lo hanno fatto con grande voglia con grande spirito con grande determinazione creando tante occasioni oltre al gol subendo praticamente nulla nell'arco dei 95 minuti e siamo contenti siamo contenti perché nelle ultime due settimane abbiamo rivisto il vecchio spirito del Brindis una squadra con grande intensità che va a fare grande pressione sui difensori avversari insomma quelli che sono da sempre i dettami tecnico-tattici di mister Danucci che nelle ultime gare avevano un po' smarrito in queste ultime due domeniche invece le abbiamo ritrovate e ci sono dei segnali molto confortanti noi lo sai bene non siamo culturalmente dirigenti che vanno dietro agli alibi ma ieri abbiamo chiuso in campo con otto under avevamo tante assenze pesanti avevamo gente come Cancelli che ha giocato con infiltrazione Triarico in panchina quasi a nord di firma perché aveva un problema al polpaccio praticamente avevamo avevamo come over integri cinque giocatori e non di più nonostante questo ancora una volta abbiamo messo il cuore oltre all'ostacolo certo ci dispiace averlo fatto davanti solo 800 spettatori a 800 paganti lo diciamo senza polemica alcuna ma una squadra che ha un tiro di spioppo dalla prima in classifica giocare davanti a 800 spettatori sicuramente piacere non ci fa non fa piacere ai ragazzi che avrebbero probabilmente meritato una spinta in più anche in virtù ripeto della grande prestazione fornita a Fasano Domenica ma è così lo abbiamo detto tante volte ci auguriamo che questo trend possa essere invertito quanto prima e che il Fanuzzi come ci auguriamo tutti noi possa ritornare a essere presto il dodicesimo uomo in campo ecco direttore guardando le immagini c'è un ovviamente scusami scusami Cristina però devo fare ancora una volta un incomio alla nostra curva che è stata meravigliosa ancora una volta che ha incitato i ragazzi dal primo all'ultimo minuto e i ragazzi della curva che faccia freddo che faccia caldo che piova che non piova in casa in trasferta non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto e quindi a loro va un grande grazie perché anche nei momenti di difficoltà sono stati critici in maniera però seria e costruttiva e anche ieri hanno incitato i ragazzi per tutto l'arco della gara quindi a loro va un plauso e un grande ringraziamento questione Manto Erboso lo vedo migliorato leggermente almeno nelle immagini direttore Cristina guarda abbiamo ereditato la Green Sport e l'amico Graziano Torsello ha ereditato una situazione obiettivamente disastrosa che si porta dietro da tantissimi anni e che nessuno poteva pretendere si potesse risolvere nel giro di qualche settimana tieni conto che nel primo mese e mezzo di lavori l'obiettivo maggiore è stato quello di eliminare i migliaia e migliaia Grillo Talpa presenti sul terreno che erano la causa principale che sono e sono stati la causa principale delle problematiche del terreno adesso si è fatto un primo intervento da oggi sarà fatto un secondo intervento che ci potrà regalare contro il Nardò tra 15 giorni un manterboso ancora in migliori condizioni l'obiettivo è che dopo la sosta di Natale si possa avere un terreno regolare perché per una squadra tecnica come la nostra e ripeto Fasano domenica lo ha dimostrato un campo in erba sintetica che nonostante la pioggia copiosissima ha retto alla grande abbiamo potuto con facilità mostrare le nostre trame di gioco è chiaro che nel nostro terreno di gioco è più difficile però il lavoro di Graziano Torsello e della Green Sport fino a oggi è incommiabile perché i miglioramenti sono evidenti di partita in partita domenica c'è questo match con il Molfetta io approfitto della presenza di Fabio Petruzella che è il club manager della Molfetta per farvi adesso dialogare un attimo perché raramente succede di avere due versari già il lunedì e allora Fabio una domanda per il direttore generale del Brindisi e poi viceversa una qualsiasi curiosità la formazione non te la dirà ovviamente anche perché è solo lunedì più che una chiedere se questi infortuni dureranno ancora un'altra settimana ecco allora per esempio vediamo no no la mia la mia non è una domanda è un invito a domenica al direttore e ovviamente sarà una bellissima partita e con una grande squadra il Brindisi è inutile negarlo è una delle pretendenti a questo campionato e faccio i complimenti comunque per il lavoro svolto finora perché hanno ereditato una situazione non semplice quindi veramente complimenti al direttore a tutta la società e ci vediamo domenica sul campo direttore Valentini ringrazio innanzitutto per i complimenti che prendo e rivolgo ovviamente a tutta la struttura societaria la Molfetta è ormai una realtà consolidata di questo campionato da tanti anni hanno un allenatore tra l'altro molto molto bravo che era con me a Francavilla da giocatore in eccellenza addirittura qualche anno fa sono una squadra che anche se sta vivendo un periodo non facilissimo comunque una squadra con tante individualità molto importanti allenata ripeto da un allenatore giovane ma molto molto capace e bravo anche loro hanno devo dire un terreno di gioco insintetico invidiabile io ci sono stato due anni fa col Taranto e devo dire che è davvero una struttura che è un fiore all'occhiello non fosse altro perché il mare di fronte tra l'altro è qualcosa di meraviglioso e quindi è da sempre Morfetta si incontrerà di distinta per una grande ospitalità per una grande accoglienza quindi sono certo che domenica sarà una bella festa dello sport tra due compagini amiche che sapranno regalare sicuramente un ottimo spettacolo al pubblico presente direttore ti rubiamo altri 30 secondi perché c'è il correga Nicola Lavacca che vuole farti una domanda direttore non so se mi vuole e mi può rispondere siccome ho letto una dichiarazione di Minguzzi ti prego non lo provocare no il quale ha dichiarato avrebbe dichiarato che Di Piazza e Zampa non dovrebbero più far parte del progetto del Brindisi quindi credo in apertura di questo mercato se ha qualche notizia in merito e cosa farete sul mercato non dico i nomi ma almeno quali reparti potrebbero essere diciamo interessati da operazioni di mercato ma guardi per quanto riguarda Zampa il giocatore ha chiesto la sessione circa una decina di giorni fa ci ha comunicato che un club professionistico sarebbe pronto a contrattualizzarlo la Turris lo dico io nota del redattore noi ancora la Turris non ci ha compitato quindi non so se sia la Turris però comunque Zampa ha chiesto la sessione noi vogliamo ovviamente giocatori fortemente motivati e che stiano dentro il progetto al 100% quindi dove si creassero le condizioni a noi gradite sicuramente Zampa è un giocatore da considerarsi in uscita per quanto riguarda Matteo Di Piazza Matteo innanzitutto è stato lontano in queste ultime due partite per un piccolissimo problema fisico nulla di assolutamente eclatante e ha lavorato a parte dopodiché si stanno facendo delle valutazioni di natura tecnico-tattica con l'area tecnica del nostro CAB e da giovedì quando si aprirà il mercato ci saranno delle operazioni in uscita che si faranno probabilmente Matteo Di Piazza è un giocatore che sicuramente sarà in uscita però il mercato è sempre in continua evoluzione per quanto riguarda le entrate io dico sempre che il mercato di dicembre e di gennaio è il mercato cosiddetto di riparazione noi abbiamo lavorato molto molto bene in estate quindi dovremo solo puntellare alla rosa sicuramente con un attaccante che eventualmente andrà a sostituire Di Piazza e con un centrocampista che andrà a sostituire numericamente Zampa questo è il mercato delle necessità dove poi il mercato delle opportunità dovesse regalarci qualche situazione a noi favorevole da un punto di vista tattico da un punto di vista economico-finanziario la società come sempre sarà attenta e non si farà trovare impreparata l'obiettivo è chiaro è quello che a fine mercato la rosa del Brindisi possa essere ancora più forte e ancora più competitiva grazie grazie al direttore del Brindisi Pierluigi Valentini direttore generale ci risentiamo presto buon pomeriggio grazie a voi un saluto a tutti gli ospiti grazie direttore allora sulla questione ovviamente infortuni troppo presto per fare questa domanda io posso azzardare ovviamente questa è una cosa che può tornare utile all'almolfetta non mi faranno entrare più a Brindisi ma Santoro potrebbe ancora saltare anche questa gara e potrebbe rientrare con il Nardò ecco qui tanto ormai lo scriviamo tutti direttore Bartoli è una perdita importante per il Brindisi indubbiamente Santoro è un terminale offensivo come pochi quindi sicuramente sarà un vantaggio per il Molfetta però io penso che sia da una parte che dall'altra potranno mancare determinati giocatori ma sarà comunque una partita tosta e io penso che è aperta a qualsiasi risultato una domanda la faccio a tutte e tre perché ovviamente il nostro Fabio è anche esperto di calcio se non sarebbe sentito lì e non sei solo rappresentante del Molfetta parlavamo prima di Under oggi mi è piaciuto questo tema sugli Under perché sono particolarmente legata a questi ragazzi che si piacciono in evidenza abbiamo visto il portiere del Nardò Palumbo che di Under ha solo la carta d'identità una battuta sì sì Palumbo infatti poi vedremo dopo è stato anche inserito nella top 11 vedremo subito Checco secondo me è un 2001 che come dici tu giustamente è soltanto l'anagrafe ma era già esperienze importanti lui comunque è stato un ritorno a Brindisi perché stava già due anni fa l'anno scorso stava a Bitonto quindi comunque ha fatto parecchia esperienza in D Giron e H e si vede tutto poi in campo che dà sempre il meglio e ieri è riuscito a fare un bellissimo un bel gol che ha permesso di vincere la sua squadra Nicola da quello che ho visto lo scorso anno anche Bitonto ha fatto sostanzialmente bene credo sia migliorato in quanto a personalità anche ieri questo gol diciamo di questo inserimento uno dei suoi credo sia l'emblema di queste sue caratteristiche tecniche e temperamentali Fabio sì non lo scopriamo di certo oggi Palumbo è un giocatore importante e soprattutto è uno che fa campionati con squadre di vertice e diciamo non fa notizia quando lui fa bene anche se è un under non dimentichiamocelo però è un under sulla carta d'identità perché poi in campo un under che segna che fa la differenza è sempre qualcosa che ti fa capire che è un ragazzo pronto forse anche per fare il salto di qualità certo poi under vuol dire in 2001 già sì in under in serie D però non sono quelli vuol dire gli under se pensiamo 2003-2004 già è diverso però 2001-2002 già sono c'è già una proiezione più in là diciamo andiamo a vedere la top 11 direttore top 11 allora andiamola a vedere e commentare con Gigi De Lorenzis vai allora questa settimana come modulo abbiamo preferito il 433 e come mister penso che sia abbastanza giusto in linea meritare far meritare questa nella top 11 mister Loseto con il bitonto che comunque sono già un bel po' di giornate che esprime un buon calcio e ieri ha veramente fatto saltare il banco vincendo 3-0 a Lavello in porta come dicevamo prima abbiamo messo spina in 2003 dell'Altamura ricordiamo il ragazzo comunque formato tra Napoli e Juve Stabia e già il secondo anno con l'Altamura difensori centrali siamo andati sul sicuro sono quei centrali che stanno assicurando alle rispettive squadre una compattezza e una solidità difensiva che sono Polidori a Barletta e Lanzolla del Nardò stessa cosa a sinistra abbiamo voluto premiare Chiara Dia del bitonto che oramai è un punto fermo nello scacchiere di mister Loseto anche se ieri so che ha giocato come mezzala a sinistra è molto duttile come giocatore quindi noi l'abbiamo schierato lì a sinistra a destra il 2004 Parisi del Casarano e l'hanno preso in prestito dal Benevento Benevento a centrocampo abbiamo fatto un centrocampo fondamentalmente giovane con Romeo del Molfetta 2003 e un ex Geno e Bari se non sbaglio poi abbiamo messo come dicevamo prima Palumbo 2001 del Brindisi e Corigliano che anche se non è under un 2000 del Gladia Torra autore anche di uno splendido gol ieri poi in attacco abbiamo una batteria da 22 gol abbiamo messo come terminale offensivo Foggia della Cavese che ha 7 gol all'attivo Corvino del del Fasano Foggia 5 gol Corvino 7 gol e Longo che è il capocoloniere del Girone della Fragolese che stenta a decollare con 10 gol al direttore che è esperto anche di trattative volevo chiedergli diciamo questo momento un po' così anche voglio dire un campionato che si è un po' ridimensionato della Fragolese potrebbe essere Longo un rinforzo per il Barletta che diciamo c'è stata un po' questa separazione da Pignataro quindi sicuramente dovrà è stato anche dichiarato cercarsi un altro bomber di qualità potrebbe essere io ho sentito anche di Piazza c'è anche di Piazza poi c'è stato anche questo nome di Patierno un po' un sogno Patierno non si muove da Francavilla però non credo e tu lo puoi dire sono le ultime indicazioni volevo chiedere secondo lui se potrebbe oppure anche le voci se ci sono già come diceva il direttore generale prima del Brindisi è chiaro che il mercato di dicembre sia per chi deve salvarsi ma sia anche per chi deve cercare di qualche rinforzo che possa alzare la competitività della squadra non è semplice Longo secondo me come caratteristiche può essere uno di quei giocatori che potrebbe far comodo al Barletta forse sono stati già avviati dei contatti non lo so di certo al Barletta manca secondo me un terminale offensivo in grado di poter assicurare quei gol che potrebbero portarli sicuramente più in alto anche perché dal punto di vista difensivo diciamo che ci siamo e lì davanti secondo me occorre qualcosa uno che infiamma anche una piazza che è già infiammata forse è troppo andiamo a vedere l'up and down andiamo a commentarlo perché abbiamo veramente solo tre minuti dobbiamo anche vedere i golpi belli ieri vai velocemente l'up and down come abbiamo detto prima l'up sicuramente per il Bitonto è tornato alla vittoria quindi se la merita e il Gravina purtroppo è nel nostro down anche perché nelle ultime sei partite ha perso quattro volte quindi sicuramente deve cercare in tutte le maniere di risalire so che hanno tesserato Zappacosta nelle ultime ore è stato disponibile per domenica però come dicevamo prima non è semplice nel momento in cui le cose non vanno tanto bene uno cerca di aggrapparsi a qualcosa però non è semplice però il Gravina potrebbe avere tutte le carte anche per risollevarsi andiamo a vedere i gol più belli li commentiamo vediamo e palumbo io sinceramente scelgo quello di Corigliano perché è stato un gesto atletico non semplice secondo me si io no ma non perché non avevo dubbi che dici sia di parte non perché sono di parte ma perché è il primo gol di Romio in Serie D quindi vale doppio ha fatto sicuramente un gol infatti abbiamo messo 3-3 bei gol però se dovessimo scegliere io preferisco quello lì perché comunque è stato un gesto atletico quello di Corigliano non da poco però Romio comunque sicuramente ha fatto un gol bello e oltretutto non è un giocatore che viene utilizzato sempre quindi comunque si è fatto trovare pronto complimenti a lui allora siamo davvero in chiusura grazie direttore noi ci vediamo lunedì puntuali sempre su Antena Sud e sempre lunedì però mi devi dire qualcosa vai mi devi dire qualcosa come abbiamo detto domenica scorsa che ci saremmo rifatti ci siamo rifatti benissimo ovviamente parliamo del NIC Calcio Bari del NIC Calcio ci siamo rifatti pomeriggio con San Marco siamo a due punti del NIC Calcio detto fatto perfetto riscatto immediato e domenica andiamo a Molfetta con la Virtus Molfetta quindi sarà una bella gara e ne riparleremo lunedì Cristina domenica l'unica gara diciamo che vorrei sottolineare ce ne sono tante però un banco di prove importante per il Casarano a Cava quindi uno scontro assolutamente sì diretto importante assolutamente sì allora ringrazio il direttore Gigi De Lorenzis ci rivediamo lunedì grazie a te grazie a Nicola Lavacca e grazie ovviamente a Fabio Petruzzella club manager della Molfetta grazie davvero per essere stati con noi grazie a tutti voi per l'attenzione ci rivediamo lunedì sempre alle 15 su Antena Sud con lunedì Puglia grazie a tutti grazie a tutti